Domenica si sono tenute le elezioni Moldavia, ma perché l'esito è importante anche per noi? Piccolo paese ex-sovietico, ai confini dell'Europa orientale, si sono tenute due elezioni importanti. Il primo turno delle presidenziali e un referendum per l'adesione del paese all'Unione Europea. Tuttavia i risultati mostrano un paese profondamente diviso, conteso tra le influenze di Bruxelles e Mosca e il rischio di una nuova faglia politica tra Europa e Russia. Per cui la Moldavia, proprio come in molti altri paesi ex-sovietici, vive un momento di tensione. Il primo turno delle elezioni presidenziali, mai essendo attuale presidente e leader filo-occidentale del partito Azione e Solidarietà, ha vinto con il 40% dei voti. Tuttavia il referendum per l'adesione all'Unione Europea ha mostrato una spaccatura netta tra i cittadini, dato che hanno votato a favore il 50,4% mentre hanno votato contro il 49,6%, dove determinante è stato il voto dei cittadini moldavi che hanno votato dall'estero. La Moldavia, infatti, pur essendo un paese molto piccolo, con 3 milioni di abitanti scarsi, è caratterizzata da un quadro interno molto complesso, con minoranze etniche e linguistiche tra rumeni, ucraini, russi e la regione secessionista della transinistria. Per cui, anche se la scommessa europeista di Maya Sendhu sembra in parte vinta, il futuro del paese resta ancora piuttosto incerto. Dopo queste elezioni, la Moldavia dovrà infatti trovare una sua stabilità interna e la sua eventuale entrata in Unione Europea potrebbe modificare gli equilibri internazionali nel prossimo futuro, aumentando le tensioni alle porte dell'Ucraina. E tu cosa ne pensi? Io sono Diana e su Inside Over abbiamo parlato di questo tema. Dicci la tua opinione nei commenti.